e buongiorno con pochissimissima energia oggi, considerate che ieri sera prima di addormentarmi ho detto vabbè domani mattina visto che mi mancava un sacco volevo fare un intro di quelle carine con tutti i passaggi, tutte le cosine che faccio magari velocizzata con la musichetta ecco vi sto salutando così e ancora assolutamente nel letto nonostante siano le 9 e nonostante avessi messo la sveglia alle 6 e 10 stanotte dopo mille peripezie ho deciso direttamente di toglierla perché è stata veramente una nottata da incubo c'è un vento penso che qualcosina lo siate già sentendo ma tanto appena prendo coraggio mi alzo ci affacciamo insieme alla finestra così vi faccio sentire però è stato veramente un incubo continuo c'era un vento ma un vento fortissimo credo che sia effettivamente il fön quindi il vento caldo che io pronuncio sempre in modi a caso però questa volta perché comunque ha sciolto tutta la neve eccetera però stavolta è stato veramente forte ma all'inverosimile credo di non averlo mai sentito così tanto infatti continuavano ad esserci dei rumori inquietanti a un certo punto c'è stato sicuramente uno sbalzo di corrente quindi si è acceso di tutto qua in casa compresa la lucina dell'apple tv che è una cosa che mi infastidisce tantissimo cioè ce l'ho proprio puntata contro gli occhi e quindi ho continuato a svegliarmi poi continuavo ad andare a vedere le telecamere controllavo che l'allarme fosse inserito poi ho iniziato a preoccuparmi delle cosine che avevo fuori ho detto stara volando via tutto per esserci un vento del genere e sinceramente non ho neanche ancora avuto il coraggio di controllare cosa possa essere successo però già iniziamo tutto al contrario di come mi ero prefissata di fare però unica nota positiva in tutto questo dopo queste mille lamentele che lo so non sono da me la mattina appena sveglia perché sono sempre presa bene però quando dormo poco sono un pochino più irascibile l'unica cosa positiva è che riesco anche oggi a vloggare e non pensavo di riuscire a registrare due vlog addirittura questa settimana quindi di questo sono contentissima e speriamo che la giornata visto che ci siete voi possa migliorare adesso intanto come promesso voglio farvi sentire questa è la situazione del vento spero che mi stiate sentendo è una bellissima giornata ma veramente forse adesso sta anche diminuendo un pochino speriamo anche perché stando a quello che dice Trebi Meteo in teoria oggi pomeriggio dovrebbe addirittura piovere e poi dovrebbe tornare abbastanza nella norma per la stagione anche un pochettino bassa meno 9 meno 8 era meglio che non guardavamo vabbè vedremo strada facendo perché a quanto pare dovrebbe poi piovere subito dopo pranzo ma tanto in realtà non avevo in programma di uscire sinceramente se non questa mattina ma poi vi spiego tutto man mano perché ovviamente nei giorni che non vloggavo è successo di tutto in casa perché questa casa non ha mai intenzione di lasciarmi tranquilla e tra l'altro mentre non vloggavo tra le varie cosine che poi vi faccio vedere mi è arrivato anche questo mega pacco di Airburst che è stato sicuramente la salvezza perché sapete che collaboro con loro ormai da tre anni più o meno però avevo finito assolutamente tutti tutti i prodotti quindi adesso ho il rifornimento totale per ricominciare ad usare tutto e per ricominciare anche il solito ciclo di vitamine che faccio sempre in ogni caso sono stata bravissima perché ho tenuto tutto integro come sempre per farvelo vedere tanto sapevo che avrei vloggato oggi ed ecco qui no vabbè è sempre fantastico praticamente mi hanno inviato appunto le due confezioni di vitamine queste qui sono le unicorn vegan e i vitamins quelle che vi ho fatto vedere tantissime volte che sono appunto le vitamine gommose 100% vegane che servono appunto a favorire la crescita a rafforzare i capelli sono facilissime da assumere perché appunto sono proprio gommose adesso ve le faccio vedere sono praticamente sì questa l'avevo già aperta perché non ho saputo resistere effettivamente e già da ieri mattina ho ricominciato il ciclo comunque appunto sono queste vitamine a forma di unicorno io ne assumo due la mattina insieme alla colazione e faccio appunto il ciclo completo per tre mesi e mi trovo benissimo ormai è veramente un sacco di tempo che le assumo e penso di avervelo già detto un sacco di volte e mi trovo molto molto bene con lo shampoo e il balsamo della stessa linea questi qui sono avocado e cocco e sono qualcosa di fantastico sono ottimi anche in combo appunto con le vitamine cioè li adoro tantissimo e ovviamente li avevo già finiti forse sarà la quinta o sesta volta che li finisco nonostante ci sia tantissimo prodotto all'interno e mi hanno mandato anche aggiungerei sempre per fortuna perché l'avevo finito questo siero che è il Lush and Brow Enhancing Serum questo contiene il 98% di ingredienti di origine naturale e aiuta proprio a favorire la crescita e a infoltire sia le ciglia che le sopracciglia io solitamente lo applico la sera e mi sto veramente trovando benissimo con tutti i prodotti di questa linea ma è una cosa che negli anni appunto vi ho sempre raccontato però contate che effettivamente non ho fatto neanche più nessun tipo di trattamento alle ciglia perché questo siero mi sta già permettendo di ottenere degli ottimi risultati quindi sono super contenta di ricollaborare con loro e tra l'altro in occasione della collaborazione come sempre mi hanno fornito anche un codice sconto che sarà valido per tutto il mese di gennaio ed è Chiara25 poi ve lo riscrivo anche nell'info box così vi metto anche il link al sito ed ha appunto diritto al 25% di sconto su tutto il sito è valido solo però sul sito italiano rimanendo in tema di capelli ieri che appunto non vloggavo ho postato questa foto proprio nel feed di Instagram e vi è piaciuto un sacco l'acconciatura quindi questa treccia un po' particolare ma in realtà semplicissima da fare e in tantissimi mi avete chiesto di fare tipo un mini tutorial quindi direi che adesso mi sistemo la faccia che immagino che sia in condizioni veramente più assurde del solito proprio perché è riduce da questa nottata da incubo e una volta che mi sono truccata provo a rifarmi i capelli così sperando che vengano perché sapete che quando poi la videocamera è accesa inizio a fare cose che normalmente non faccio cioè a volte alcune le faccio però in generale normalmente sono cose che mi vengono senza problemi quando si tratta di farvi vedere come le faccio vado nel panico però non pensiamoci mi sistemo e poi proviamo a rifare questa acconciatura tanto appunto tra un attimo poi devo uscire ho finito adesso di truccarmi alla fine ho deciso di usare la palettina questa qui nuova di Elodie con Sephora e ho usato per ora solo questi tre colori opachi quindi questo rosino, questo rosso che è pigmentatissimo quindi vi consiglio di usarne veramente poco infatti poi sono andata a sfumarlo direttamente con questo marroncino però appunto per ora ho provato solo quelli opachi e come blush ho usato questo qui che si chiama Fab che è più sui toni del rosa e nel complesso il risultato finale non mi dispiace per nulla unica cosa, provo con voi il rossetto giusto per farvelo vedere indossato perché me l'avete chiesto appunto sotto il vlog in cui lo spacchettavamo però non penso, cioè di solito questi colori un pochino comunque metallizzati così tanto cangianti non mi stanno benissimo però è giusto per farvi vedere come sta e soprattutto la pigmentazione così la proviamo anche insieme effettivamente è sicuramente iper iper pigmentato però sì come vi dicevo magari poi mi scriverete tutti che in realtà dovrei dargli qualche chance ma su di me non li vedo benissimo quindi penso che tra un attimo cerco di resistere un pochino la pigmentazione è ottima questa è una sola passata ed è già super super coprente non so bene come l'avrò applicato perché siamo distanti dallo specchio però più o meno era giusto appunto per farvi vedere com'è il colore la pigmentazione è ottima così come è ottima quella del blush quella delle palette perlomeno dei colori opachi che ho testato io solo che appunto penso che tra un attimo ripasserò al mio classico nude volevo dedicarmi ai capelli ma mi ha interrotta il corriere quindi vi faccio vedere che mi ha portato un mini ordine che avevo fatto qualche giorno fa sul sito di calcedonia sì era praticamente distrutto il pacco e io ho finito l'opera l'ho distrutto del tutto trasportandolo ma non pensiamoci almeno non so a stressarvi sempre dopo pranzo con momenti unboxing e cose varie tanto appunto sono veramente solo due cosine che ho preso super di recente sul sito e almeno ne approfitto visto che più tardi devo fare la lavatrice le metto a rinfrescarsi così da domani posso usarle e comunque ho preso appunto questi pantaloni ecco questi purtroppo non sono in saldo cioè fanno parte della nuova collezione si chiamano jogger comfort costano 25,90 l'uno e io appunto ho voluto prenderli in questi due colori quindi questo grigio scuro quasi tendente al nero sono proprio dei jogger semplicissimi da usare sia per casa che tranquillamente per uscire e sono appunto super 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 morbidi sono qualcosa di veramente morbidissimo e meraviglioso mi ispiravano un sacco perché poi sono pesanti ma allo stesso tempo secondo me sono molto comodi quindi appunto anche parecchio versatili questo ovviamente è il colore che preferisco però ho pensato di prenderli anche un po' scuri perché effettivamente di cose da casa o comunque di tute o a tutti i colori abbastanza chiari e tante volte effettivamente mi pento perché preferirei avere anche qualcosina di più scuro quindi stavolta ho cercato di non commettere lo stesso errore adesso comunque che ve li ho fatti vedere posso aggiungerli alla lavatrice e da domani utilizzarli e noi invece possiamo tranquillamente dedicarci ai capelli finalmente se non ci interrompono in realtà è veramente un'acconciatura super super semplice e un modo di fare la treccia facilissimo che avevo trovato su youtube ma vi parlo di boh 4-5 anni fa sinceramente penso che sia un sacco di tempo comunque è passato tanto dalla volta in cui avevo visto il tutorial ovviamente di solito mi riesce con la videocamera accesa non lo so infatti cerco di evitare dopo anche vari epic fail del passato cerco sempre più o meno di evitare i trucchetti o i tutorial o i video che riguardano i capelli però ci provo questo è un vlog quindi nel caso poi posso tagliare il tutto l'unica cosa che ci serve sono degli elastici questi qui sono quelli trasparenti piccolini li avevo presi da Klairs però nei vari tutorial che avevo visto usano veramente elastici di qualunque colore io ho questi trasparenti e mi trovo bene così comunque la prima cosa che dobbiamo fare è andare a fare una coda semplicissima proprio vicino all'attaccatura questa treccia io di solito la faccio anche proprio nella parte posteriore in questo caso la faccio davanti esattamente come l'avevo nella foto perché vi è piaciuta e perché mi è anche più comodo già non riesco benissimo a vedermi allo specchio quindi se mi metto anche a farla dietro non so né cosa vedete voi né cosa faccio io perciò non inventiamoci cose proprio adesso una volta fatto questo praticamente dobbiamo dividere la parte davanti dei capelli inizio già a tremare io tutte le volte è incredibile sia quando mi trucco sia quando devo far vedere qualcosa proprio sono la sicurezza fatta persona comunque una volta ricavate queste due ciocche andiamo a fare un'altra coda solo nella parte superiore quindi andiamo a legare solo la ciocca che abbiamo isolato sopra potevo farla anche un pochino più stretta e poi andiamo a dividere in altre due parti questa ciocca in modo che si formi un buchino del genere e poi andiamo semplicemente ad inserire all'interno la parte di capelli che avevamo lasciato sul retro spero che si sia capito qualcosa comunque a questo punto i capelli che abbiamo portato sul davanti vanno di nuovo legati tra loro quindi rifaccio una coda a questa ciocca qui sul davanti e poi vado di nuovo ad aprirla in due parti in modo tale da riuscire ad inserire la ciocca che avevo lasciato sotto e già così inizia a formarsi una mini treccia però in realtà il procedimento può andare avanti all'infinito e infatti proseguiamo allo stesso modo ho cercato di avvicinarvi un pochino perché non so bene se sto riuscendo a spiegarmi comunque di nuovo leghiamo così di nuovo passiamo all'interno e di nuovo elastico per fare la stessa cosa a questa ciocca poi penso che io mi fermerò perché avendo i capelli parecchio scalati sennò poi iniziano a vedersi tutte le punte che non mi piacciono sinceramente quindi ultimo elastichino anzi penultimo perché poi ci vuole quello per chiudere il tutto apriamo di nuovo questa parte di capelli andiamo ad inserirci quest'altra e voilà adesso possiamo mettere l'elastico per chiudere il tutto si rispetto alla foto dell'altro giorno secondo me non è venuta benissimo ma manca ancora uno step quindi spero che quello possa essere la salvezza allora in teoria una volta fatto questo la cosa più bella di tutte è andare ad aprire praticamente le ciocche in modo che si formi questa treccia bella consistente sembra proprio una treccia grossissima cicciottosa non so neanche bene come chiamarla però appunto viene questo effetto molto molto carino più si riescono ad allargare i capelli secondo me migliore è l'effetto della treccia in sé però si dai più o meno nonostante tutto non mi sto vedendo neanche tanto bene allo specchio ma ho imparato dopo quanti anni che vloggo non lo so neanche più però ho imparato tipo solo di recente a posizionarvi in modo da riuscire a truccarmi con voi figuratevi a fare questa cosa quindi non so bene cosa ne sia uscito però il procedimento è veramente facilissimo ed effettivamente è un risultato che piace tanto anche a me soprattutto quando la faccio nella parte posteriore anche laterale non mi dispiace però comunque ho un po' più di difficoltà perché avendo i capelli scalati comunque quando si fa laterale tendono a vedersi di più questi spuntoni sul retro rimane un pochino più omogenea però si è veramente super super semplice da fare infatti mi ha fatto un sacco piacere leggere tante richieste e tanti complimenti sotto quella foto perché non ci sono abituata cioè a parte che non faccio quasi mai niente ai capelli però quando succede così o anche quando mi fate i complimenti per il trucco lo sapete che resto sempre molto contenta perché sono tutte cose assolutamente semplicissime a prova di Chiara Imbranation perfetto mi sono già cambiata alla veloce questo qui non so se ve lo ricordate ma è il maglioncino di Chiara Ferragni Collection che avevo preso lo scorso anno se non sbaglio con i saldi e sotto i soliti pantaloni questi qui con la cintura in vita che ho di mille colori e che ho preso da Zara e adesso come vi sto dicendo da tutta la mattina senza però spiegarvi il motivo dobbiamo uscire perché assolutamente niente spesa niente commercialista niente banca cioè nessuna delle solite commissioni ma è successo un disastro reale proprio che va risolto il prima possibile se non oggi stesso praticamente ieri quasi per caso mi sono resa conto che il tubo quello esterno a cui è collegata l'acqua insomma l'impianto di irrigazione ha iniziato totalmente a perdere adesso se esco a farvelo vedere non non si sente nulla ma ho fatto un video che ho mandato ieri a mio papà e anche a Matteo e vi faccio vedere direttamente quello così vi spiego meglio che cosa è successo ecco praticamente questo è quello che sta succedendo il tubo perde acqua dappertutto sta allagando non solo il muro ma anche proprio tutto quello che c'è intorno meno male che me ne sono accorta noi l'avevamo anche isolato in vista dell'inverno però eh sì qui facevo vedere nel video a mio papà però l'avevamo anche isolato in vista dell'inverno ma con il gelo che c'è stato non è servito a nulla e meno male che ieri per caso perché c'era già un po' di vento non forte come oggi ma c'era già un po' di vento io metto sempre il tappetino della doccia fuori a prendere aria mi sono resa conto che era caduto sotto sono andata giù in giardino e l'ho visto per caso perché se no in giardino con questo freddo e pieno di neve adesso la neve si è abbastanza sciolta però fino all'altro giorno c'era la neve non stavo a uscire in giardino ecco non c'era proprio una temperatura invitante e non mi ero accorta di nulla l'unica cosa abbiamo scoperto perché è il primo anno che capita una roba del genere abbiamo scoperto che non ho il rubinetto in casa per poter isolare l'acqua esterna quindi praticamente tutto l'impianto idraulico che ho in casa è collegato si può isolare chiudendo un unico rubinetto quindi non c'è un modo per isolare solo quel rubinetto ma dovrei isolarmi tutta la casa che non è possibile perché non avrei più l'acqua perciò adesso ho un elenco di cosine da prendere devo anche uscire purtroppo a recuperare l'aggeggio insomma il diffuso non so come si chiama comunque l'aggeggio dell'irrigazione adesso quando lo recuperiamo ve lo faccio vedere così ho la dimensione corretta del mio tubo e devo andare o alla termo team adesso devo rileggere però devo andare nel negozio in cui mi ha detto di andare mio papà a prendere vari pezzi e poi più tardi stasera o direttamente domani a questo punto vediamo un po' quando è possibile Matteo prova a sistemarlo in modo piuttosto provvisorio perché si tratta di mettere un tappo e poi dovrò assolutamente chiamare un idraulico però vogliamo almeno cercare di tamponare il problema il prima possibile in vista poi di prendere appuntamento e trovare un idraulico che abbia modo di venire qui e non so neanche bene cosa dovrà fare ma immagino che sia un lavoro abbastanza consistente perché abbiamo guardato anche bene in cucina ed effettivamente quel tubo entra all'interno della casa ma devia direttamente perciò mi sa che se deve andare a inserire un rubinetto dovrà spaccare varie cose non ci voglio sinceramente pensare ma cerchiamo almeno intanto di tamponare la cosa e speriamo di trovare questi tappi che servono poi c'era tipo da prendere dell'isolante non mi ricordo già più il nome tanto ho tutta la lista per fortuna mi sono segnata tutto quindi stamattina la missione da compiere è semplicemente questa avrei fatto veramente volentieri a meno di uscire vista la situazione atmosferica però è andata così missione compiuta sono riuscita a sfidare il vento e alla fine ho recuperato solo questo pezzettino perché credo sia inutile portarsi dietro tutto l'aggeggio che serve appunto per l'irrigazione tanto questa qui è la misura finale quindi in base a questa dovremmo riuscire a trovare un tappo adesso andiamo a vedere subito effettivamente mi sa che aveva ragione come sempre tra bimeteo perché si sta parecchio annuvolando però il vento non accenna a diminuire prima di andare visto che già l'altro giorno nel vlog mi sono dimenticata di chiedervelo volevo farvi vedere questa mini differenza perché sapete che era domenica o lunedì comunque inizio fine settimana è uscito il video della mystery box quindi quello della serie in cui commissiono delle mystery box a qualcuno in questo caso l'aveva realizzato Matteo e mi aveva scelto questo paio di occhiali che ho messo poi in macchina perché effettivamente in quel video mi avevate scritto tutti che mi stavano bene però l'altro giorno nel vlog ho utilizzato quelli soliti quindi questi qui che metto sempre di moschino e in tantissimi mi avete scritto che sono molto molto simili quindi volevo chiedervi questo consiglio così poi decido bene cosa fare questi sono appunto gli occhiali di moschino che sono assolutamente molto molto simili a quelli secondo me leggermente più grandi però questi qui di solito li approviamo cioè ci piacciono sia a me che a voi quindi top poi adesso vi faccio vedere la differenza senza stare a perdermi via questi qui sono quelli che invece appunto ha scelto per me Matteo quindi rimangono sicuramente un po' più piccoli però allo stesso tempo un po' allungati verso l'esterno non so effettivamente se mi stanno bene o se non mi stanno bene perché in tantissimi mi avete scritto di sì ma è stato bravissimo con quella mystery box e assolutamente non ci piove l'unico dubbio che avevo appunto erano gli occhiali e la felpa nera perché il nero non è un colore che uso tantissimo su quella mi avete abbastanza convinta poi è una marca che mi piace tanto ed effettivamente non avevo assolutamente niente di simile soprattutto non di nero quindi su quella mi sono convinta sugli occhiali non lo so forse è perché ci sono più abituata forse è perché mi sono fissata ma trovo che mi siano meglio questi e soprattutto che non siano così tanto diversi da giustificare il fatto di averli entrambi non lo so aspetto di sapere da voi adesso che sono riuscita a farveli vedere prima e dopo tutti e due insieme fatemi sapere cosa ne pensate definitivamente così poi capisco cosa fare anche con quelli e intanto sì direi che possiamo avviarci verso il negozio di idraulica comunque vedete che non fa freddo effettivamente ci sono 10 gradi che è una cosa che non succedeva da settimane c'era sempre meno 5 meno 6 però preferisco il freddo a questo vento sinceramente missione assolutamente compiuta sono riuscita a trovare tutto contro ogni aspettativa perché mio papà era convinto che il teflon non ci sarebbe stato invece l'ho trovato quindi vediamo se poi entro fine giornata riusciamo a risolvere questa cosa adesso resto ancora in giro un attimino vado verso Osta perché ho ordinato prima di entrare il sushi da sporto che è tantissimo cioè sarà la prima volta che mangerò sushi da quando è iniziato l'anno perché è l'ultima volta che ho mangiato il sushi da sporto era sicuramente con voi durante uno dei mille vlogmas che ho registrato a dicembre quindi mi mancava tantissimo solo che non essendo mai in giro non sto ad ordinarlo e a uscire apposta per andare a prenderlo oggi che tanto avevo questa commissione da fare ne approfitto sushi appena ritirato questa volta ne ho presi tanti tanti pezzi non vedo l'ora di arrivare a casa ma mi mancava veramente tantissimo ci sono addirittura due ciotoline ed eccoci qua non vedo l'ora di iniziare a mangiare oggi ho preso 40 pezzi sempre misti perché appunto ho deciso di ordinare all'ultimo mentre ero in giro però mi sono anche ricordata di prendere il menù questa volta così i prossimi ordini so che cosa scegliere anche perché tipo questi qua sono i miei preferiti mentre questi con l'alga sapete che non mi fanno impazzire quindi almeno la prossima volta vado sul sicuro e di questi ne prenderò tipo 10 pezzi che mangerò solo io probabilmente per quanto mi piacciono buon appetito oggi pausa pranzo decisamente più lunga del solito perché sono le 15 e 42 non ho assolutamente mangiato fino adesso però avevo un paio di chiamate da fare che peraltro sono finite già da una mezz'oretta però non riuscivo ancora a riazzondere la videocamera adesso mi sono un attimo tranquillizzata e riesco a spiegarvi un po' tutto però praticamente ho scoperto adesso cioè ho avuto la conferma che uno di l'altro giorno nel video in cui facevamo comunque la classifica dei vari momenti della mia carriera o comunque del mio percorso qui su youtube e forse anche in un altro video che era sì il video del bilancio invece dei guadagni del 2020 vi avevo appunto accennato a questi due progetti che stavo portando avanti uno che comunque riguarda il canale ed è quello che era pronto eccetera con cui vi ho già fatto una testa così e che sarebbe dovuto uscire il 17 di novembre e l'altro che invece non era ancora andato in porto era rimasto in stand by e come vi dicevo per tutti i due progetti avevo sperato di poterli ricominciare adesso quindi nel 2021 soprattutto quest'altro progetto che invece non centrava assolutamente niente con il canale però mi stava tantissimissimo a cuore ci tenevo tantissimo perché comunque sarebbe stata la realizzazione di un sogno nel cassetto che ho da tantissimissimi anni e riguardava gli animali principalmente i gatti però è una cosa che volevo realizzare da tantissimo erano quasi due anni che ci stavo dietro l'anno scorso più o meno a marzo purtroppo avevo dovuto interrompere il tutto però poi avevo ripreso subito dopo l'estate ma ci sono un sacco di difficoltà burocratiche ci sono cioè sto riscontrando e sto incontrando tanti di quei problemi e tante di quelle difficoltà che cioè mi ero resa conto già verso fine anno l'anno scorso che comunque stava diventando troppo difficile e forse non era ancora il momento di portarlo avanti però non ero cioè non so perché non pensavo di rimanerci così male oggi ricevendo questa notizia che appunto ha praticamente confermato ciò che sospettavo cioè che il tutto non sarà realizzabile perlomeno non nell'immediato e non entro la fine dell'anno e quindi non so perché ci sono rimasta così male ma mi è arrivato proprio un momento di sconforto è come se in fondo in fondo sotto sotto ne avessi già la consapevolezza ma sentirlo dire è un po' come quelle cose che finché te le immagini pensi di reagire in un modo e poi quando le vivi o le vedi reagisci completamente in modo diverso rispetto a come ti aspettavi e appunto dopo pranzo mi è successo così cioè è stato un po' una doccia fredda anche perché in questo periodo da tre mesetti a questa parte ho la sensazione che sto interpretando sempre e solo in modo negativo adesso nel canale forse non si sarà notato però sto interpretando in modo negativo un pochino i segni che ricevo quindi probabilmente mi autolimito tendo a sabotarmi da sola senza rendermene conto un po' deve essere anche dovuto al fatto che ho sempre la sensazione o comunque la tendenza a pensare che in qualche modo non mi merito di essere felice o che se sono felice deve poi succedere qualcosa sono sempre lì in allerta ad aspettare un po' per quello che è stato il mio trascorso di vita e adesso che le cose comunque a livello sentimentale vanno molto bene tutto il resto va bene è come se in qualche modo non accettassi questa condizione e mi stessi autosabotando non lo so ho questa brutta sensazione di essere io in qualche modo ad attirare le cose in maniera sbagliata ed era tantissimo tempo che non mi succedeva di essere programmata tra virgolette in questo modo un po' negativo quindi devo assolutamente lavorarci però sì ci tenevo comunque a rendervi partecipi anche se sì vi avrei poi resi partecipi una volta realizzato il tutto anche se appunto non c'entrava con youtube però rispetto all'anno scorso uno dei miei buoni propositi di quest'anno è proprio quello di non fare più l'errore che facevo cioè di cercare a tutti i costi di essere felice o comunque a volte di mettermi una maschera per non far trasparire altre cose quest'anno non voglio assolutamente farlo quindi quando ci saranno momenti come oggi in cui non mi sentirò al 100% o in qualche modo non so mi rattristerò non cercherò in nessun modo di nasconderlo né nei vlog né negli altri video infatti non voglio neanche più fare quell'errore bruttissimo che facevo perché ha successo diverse volte che magari durante giornate in cui vloggavo o durante alcuni video avessi delle crisi di pianto incredibili e cosa facevo aspettavo di smettere di piangere mi ritruccavo e ricominciavo il vlog o ricominciavo il video come se niente fosse quest'anno non voglio assolutamente farlo perché è vero che è anche terapeutico per me mi ha sempre aiutata però dall'altra parte poi mi sono resa conto che accumulavo 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 invece mi sono proprio resa conto che è più bello è più importante è giusto secondo me comunque anche avere questi momenti è vero che è il nostro momento di svago e quello rimarrà sempre così però dall'altra parte vorrei essere più sincera con me stessa e non obbligarmi per forza ad essere felice o a sembrare felice che è un errore che faccio da tutta la vita non voglio più obbligarmi a sembrare felice quando non lo sono ora sicuramente ho già metabolizzato prima di riaccendere la videocamera però cioè ho metabolizzato la notizia in sé poi ci vorranno un po' di giorni ma in ogni caso non mi sembrava giusto riaccendere e fare finta che nulla fosse ottimo metodo per continuare a metabolizzare la cosa merenda che ci voleva proprio oltretutto ho trovato le mie ciambelline quelle solite con lo zucchero queste qui sono quelle assolutamente vuote ma io le amo e le straamo e voglio avanzarne anche qualcuna per dopo cena mi sa ma chi mi sa che non è tanto d'accordo con la merenda ormai ha sempre questa espressione che mi fa un sacco ridere fai mettere la zampa fuori dalla ciotola ed è divertentissimo la merenda ci voleva proprio adesso sì in teoria dovrei mettermi sui libri almeno fino all'ora di cena ma mi sa che rimandremo ancora di un pochino anche perché mi sono ricordata che l'altro giorno nel vlog non ho avuto tempo di farvi vedere di sfogliare insieme come invece vi avevo promesso nel video dei regali di natale non abbiamo appunto sfogliato l'album che mi ha regalato mia mamma e che è meraviglioso e tra l'altro devo dire che è stato tipo il regalo che vi è piaciuto di più in assoluto di tutto il video ed effettivamente anche a me è piaciuto tantissimo e quando l'ho sfogliato mi ha commossa un sacco ora immagino che non farà lo stesso effetto a voi però è bellissimo veramente lei appunto ha stampato diverse foto che nel tempo le ho mandato e che le sono piaciute e alcune non le avete viste neanche su instagram e neanche nelle stories questa sicuramente l'avevo postata ed è moiki all'interno del vecchio tiragraffi ed è appunto la foto di copertina dell'album poi subito qui mi ha messo questa foto ah ho controllato ecco non ve l'avevo detto stamattina ma ho controllato lei me l'ha messa perché appunto è la foto che gli ho mandato quando stavo facendo il makeover natalizio e tra l'altro c'è sempre moiki presente questa è la sua coda ma non pensiamoci comunque ho controllato il vento non ha fatto danni l'unica cosa ha staccato la lanterna dalla sua zampina però tutto risolvibile poi mi ha inserito questa foto che ha un significato fantastico per me a parte essere una bella foto ma è molto importante anche per chi me l'ha scattata quindi sapendolo me l'ha inserita nell'album poi qui abbiamo ah queste sono una inedita e una no questa sicuramente l'avete vista perché è stata l'anteprima di un vlogmas se non sbaglio e quest'altra invece siamo sempre io e moiki nel letto la mattina quando insomma ci facciamo le coccoline e anche di queste ne ho tantissime simili però effettivamente tra tutte quelle che ho scattato questa qui è la più bella poi appunto proseguendo c'è quest'altra che mi aveva scattato mio papà ed è la prima foto che ho fatto subito dopo la quarantena e qui eravate con me tra l'altro quel giorno perché stavo registrando un vlog ed è quando siamo andate a fare tutti i vari acquisti alla serra quella di Aymaville appunto abbiamo mandato questa foto a mia mamma e lei me l'ha poi fatta stampare qui abbiamo di nuovo moiki onnipresente mentre prendo il sole e anche questa che invece voi conoscete benissimo perché è l'anteprima di un video di un vlogmas di nuovo però ormai che risale al 2019 altra foto che già conoscete che è piaciuta tantissimo anche a mia mamma è questa qui che avevo scattato inizio 2020 se non sbaglio a Cogne qui invece ci sono quelle un pochino più recenti del viaggio che avevo fatto in Trentino quindi questa qui era vicino alla struttura dove alloggiavamo e questa invece al lago di Braies poi qui ho saltato un pochino perché nell'album ci sono foto anche con altre persone non avendogli chiesto l'autorizzazione non cioè meglio evitare c'è questa foto qui che avevo scattato al mare due anni fa e forse l'avevate già vista questa invece è una foto della vista che c'era dalla camera quando io e Cri eravamo andati a Polignano quindi questa è la vista su tutto il ristorante e questa qui invece è una foto che avevamo scattato io e Cri con il sindaco e se non sbaglio il vice sindaco di Matino però seguiamo con questa che è una delle mie foto preferite in assoluto che mi ha scattato tra l'altro Cri sempre a Polignano anche a mia mamma è piaciuta tantissimo esattamente come quest'altra sono tutte foto queste ultime qui che trovate su Instagram comunque quest'altra l'avevamo scattata invece ad Alberobello subito fuori dal trullo in cui abbiamo alloggiato di cui avevo fatto anche la recensione on the road poi qui c'è una foto delle vacanze ci sono un sacco di foto dove mangio effettivamente strano non l'avremmo mai detto però qui stavo mangiando tipo i cantuccini non mi ricordo sinceramente qui ce ne dovrebbe essere un'altra ah no qui ci sono c'è quella del mio compleanno di quest'anno che trovo bellissima anche questa è su Instagram e questa invece è quella che abbiamo scattato a San Candido altra foto di me che mangio eccoci qui stranamente e poi abbiamo ancora altre due foto scattate quest'anno che le sono piaciute tantissimo questa è una delle mie preferite perché era il primo uno dei primissimi tentativi di foto Tumblr che non so mai come dirle e questa invece è l'altra che avevo scattato sempre a Brias e poi proseguiamo con di nuovo ovviamente l'emblema ossia io e Moiki nel letto la mattina questa l'avevo scattata la scorsa primavera e si l'album poi termina così perché appunto ve lo accennavo anche in occasione di quel video mia mamma ha detto a parte che aveva tantissimi video è una cosa che a me viene molto più automatica rispetto a scattare una foto non lo so le mando sempre i video di quello che sto facendo e nella maggior parte dei casi la videochiamo addirittura quindi non aveva tantissimissimo materiale però l'anno prossimo intorno a fine novembre mi ha detto che rivuole indietro l'album così lo implementa con le altre foto di quest'anno e non so trovo che sia veramente un regalo bellissimo e mi sa che l'anno prossimo anzi in realtà in vista di un compleanno tra qualche mese le ruberò anch'io l'idea perché non so è molto semplice ma allo stesso tempo tanto tanto ricca di significato ho già recuperato quaderni penne ipad e visto che sono le 6 non si può più rimandare ormai sono quasi le 6 in realtà anche perché voglio assolutamente aver finito di fare tutto entro le 21 e 25 proprio precise precise perché stasera c'è la terza puntata di che dio ci aiuti 6 dovrebbe essere o 5 non lo so comunque ho seguito tutte le stagioni e lo sapete perché ogni volta negli anni ve l'ho sempre detto e anche quest'anno mi sono messa a fare una cosa che oltretutto non facevo da un sacco cioè a seguirla in diretta di solito aspettavo tipo un giorno che fossero caricate su Raiplay o se si tratta di altri canali che fossero presenti insomma nei vari siti tipo Netflix o appunto Raiplay infiniti invece questa volta mi sono messa a seguirla da subito e non vedo l'ora che ci sia la nuova puntata quindi si adesso mi concentro faccio tutte le cose che devo fare e oggi facciamo un collasso collettivo direttamente dalla scrivania anche se ho iniziato il vlog un po' così perché ero stanca sono comunque contentissima nonostante tutta la giornata eccetera di essere riuscita a passare il tempo con voi quindi come sempre arrivo a questo momento che sono un po' così non so mai bene quando e come chiudere ma adesso andiamo immediatamente 3 2 1 e buonanotte a domani anzi no non a domani ecco cosa mi sono dimenticata di dirvi no mi stavo dimenticando una cosa allora praticamente voi questo vlog lo vedrete di sabato e sarà l'ultimo video di questa settimana quindi ci vediamo sicuramente lunedì perché non credo di riuscire ad editare altro prima appunto di domenica sera per poi lunedì va bene quindi a dopo domani grazie a tutti